Eravamo rimasti la settimana scorsa con la promessa dell'assessore che a brevissimo, aveva detto due o tre giorni, si sarebbero aperti dei centri. Bene, oggi, che è il 15 giugno, dei sei centri ne sono aperti soltanto due. Stiamo parlando di centri disabili e stiamo parlando di una criticità molto importante, soprattutto per quanto riguarda i disturbi dello spettro autistico, perché ci sono ragazzi che hanno assoluto bisogno di rientrare in una struttura di urna. A Fano, vi ricordo che ce ne sono soltanto due, bene, su due centri di Fano uno è chiuso e uno è aperto. È aperto il centro San Lazzaro, è chiuso il centro Itaca e, a quanto sembra, il centro Itaca rimane chiuso per disorganizzazione interna e non si sa quando riaprirà e se riaprirà. Un altro tema sicuramente molto importante è legato ai ragazzi di Fano, residenti a Fano, con disabilità grave, che negli anni scorsi hanno dovuto comunque iscriversi ai centri fuori Fano. Ora, in qualità di cittadini fanesi, finiscono per avere meno diritti di tutti gli altri cittadini fanesi. Perché? Perché i centri di urni della vallata e quindi quelli legati all'ambito numero 7, che fa capo a Fossombrone, ancora sono incredibilmente più indietro nell'organizzazione, nella riapertura dei centri di Fano. La prima riunione utile sarà mercoledì mattina, quindi ci auguriamo che da quella riunione i sindaci dell'ambito 7 e i coordinatori dell'ambito 7 diano finalmente il benestare alla riapertura, perché questa riapertura coinvolgerà non solo i ragazzi dell'ambito 7, quindi dei comuni di Fossombrone, Sant'Ippolito, Montefelcino, ma anche alcuni ragazzi che vivono a Fano e sono ragazzi che comunque non hanno potuto iscriversi ai centri fanesi. Domani ho chiesto già di fare un'interrogazione orale urgente in Consiglio Comunale, perché l'assessore Tinti ci possa chiarire definitivamente quali sono le tempistiche. Dovrà anche chiarirci un'altra cosa importante, perché i centri estivi per i bambini normodotati partono oggi, mentre per i bambini con disabilità ancora non si sa quando partiranno. Questa è una gravissima discriminazione. I bambini con disabilità hanno gli stessi diritti dei bambini normodotati di partecipare ai centri estivi.